ebbene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube una buona sera da tutti voi siamo qui nel quale estrazionale di venerdì 27 ottobre andiamo a vedere quello che è successo siamo nel nostro consueto appuntamento di analisi bene vi vado a segnalare dai miei metodi mensili la vincita da ambata cappa o del 28 sulla ruota nazionale poi abbiamo da ambo energetico 65 a firenze e da isola felice 77 a cagliari quindi come notate le ambate di metodi mensili dal mio diaro del mister vanno sempre realizzare grandi risultati anche questo mese di ottobre abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati vi ricordo per esempio il metodo fantastico milanapoli che ha vinto ben quattro volte il 90 tra le ruote di milano napoli inizio del mese ed è solo un diciamo un esempio poi abbiamo avuto il metodo ambata turbo con le ambate 660 su bari napoli vinte diverse volte il metro venezia da sbanco che è andato alla grandissima con l'ambata secca 1 su torino venezia ambata big con l'ottantadue baricali è andata anche fortissima quindi ci sono tantissime vince dai miei metodi quindi chi vuole acquisire i miei metodi completi o il singolo metodo oppure il pacchetto 10 metodi in grande promozione può contattarmi via whatsapp 348 75 47 715 numero che trovate sempre in descrizione in ogni video non perdete i miei metodi perché sono metodi che voi li acquistate oggi vi valgono per la vita perché sono metodi non sono i metodini che trovate in giro sono metodi di mia creazione creati veramente con passione con intuizione con impegno quindi chi conosce i miei metodi mensili da anni sa che per esempio prendiamo venezia da sbanco sono anni che paga e strapaga quindi milanapoli sono anni che un punto di riferimento ogni mese quindi chi mi segue da anni sul mio canale sa che sono metodi di grande valore in questo quale estrazionale non vediamo ancora il 90 ma arriverà ne arriveranno chissà che non arrivi qualcosa già nelle stazioni di domani sabato 28 un mese di ottobre comunque ci ha dato tanto in termini di vincite con 90 e non ma continuo a ribadire l'importanza delle mie spie di metodi spia che portano cinque ambi unica ruota metodi spia che vi do con la modalità vincita venuta dedicata ai metodi spia e avete il metodo incluso mi potete contattare via whatsapp per accedere a questa modalità abbiamo il 90 di milano e questa sera esce una bellissima figura 9 18 sulla ruota di milano in terza posizione e la spia 2 abbiamo torino che porta il 45 figura 9 e l'86 segnalatore quindi attenzione e l'abbiamo la nazionale guardate come poi i numeri non hanno memoria l'82 di nazionale è uscito in due estrazioni consecutive 26 27 ottobre è uscito in due estrazioni consecutive anche il 31 di bari è uscito in due estrazioni consecutive ecco come adesso si va a vincere con la ripetizione numerica soprattutto bari cagliari nazionale ma anche altre ruote con il meccanismo venus abbiamo ma bari cagliari io li ho studiate molto su questo aspetto e portano sempre alla ripetizione degli stessi numeri oppure bari cagliari se li scambiano quindi è il caso del 31 di questa sera ma potremmo fare tanti altri esempi ce ne sono comunque di ripetizioni numeriche il 90 stesso di bari arriva il 20 ottobre e arriva il 21 ottobre quindi uno ci si può chiedere come è possibile che uno stesso numero si ripete l'estrazione successiva è così perché ormai questa è la regola quindi si vince molto spesso con le ripetizioni quindi quando in alcune mie previsioni vado a confermare dei numeri e qualcuno mi diceva è già uscito io rispondo sempre perché i numeri non hanno memoria e che adesso è molto probabile vincere proprio con il meccanismo delle ripetizioni numeriche soprattutto sulle ruote di bari cagliari bari che è una ruota che potrebbe portare ancora ripetizione il 90 questa sera abbiamo la figura 9 54 ok quindi molta attenzione poi abbiamo anche sulla ruota di genova questo 27 guardate quanta figura 9 c'è 54 a bari 27 a genova 18 a milano 63 a napoli tutte figure 9 9 e 45 a palermo attenzione con l'ambo stessa cadenza 14 74 36 a roma col 18 figura 9 doppio figura 9 con l'ambo diametra in decina unito quindi anche qui potrebbe arrivare la ripetizione del 90 36 18 ma deve 13 unito e 48 segnalatore 45 figura 9 torino 54 figura 9 venezia quindi abbiamo parecchia figura 9 tutta questa figura 9 porterà un grande 90 sul quadro estrazionale con una massiccia presenza quindi molta attenzione non perdete le mie spie perché sapete che poi vanno a colpire e le giochiamo su unica ruota di gioco quando le mie spie vanno a stabilire il 90 non ce n'è per nessuno li abbiamo vinti tutti quando le mie spie dal calcolo arriva il 90 io ve li propongo e andiamo a vincere alla grande come andiamo a vincere alla grande con il movimento di avvenuta il mio poker state attenti dia vincente super tris lotto magic e gemello vincente molti che fanno giocano 3 4 previsioni 5 previsioni investono quei soldi che hanno investito poi li vanno a buttare nel gabinetto li buttano nel gabinetto e dicono mi fermo non gioco più perché molta gente pensa che gioca 3 4 5 volte se vince vince se non vince pazienza qui bisogna portare una costanza qui bisogna portare nel lotto si vince con la costanza e la fiducia molti utenti giocano un po quindi quelle 20 30 euro magari che si sono investite si vanno a buttare perché poi che succede esce lambo secco e non solo hai buttato soldi che hai investito quei 3 4 colpi magari al 6 o 7 colpo ti esce lambo o a fine mese ti esce lambo e non è concluso niente allora se si inizia una giocata si porta a termine i lavori non si lasciano mai a metà le cose non si lasciano mai a metà nella vita il gioco dell'otto può essere un esempio allora se cominci finisci se ti dico che è un metodo mensile un metodo mensile quindi si inizia e si finisce non che giochi 3 4 volte 5 volte molli hai buttato i soldi all'aria poi esce lambo secco hai perso i soldi investiti non hai vinto neanche lambo poi si vince lambo che succede che questa gente ritorna vede vede il cedolini della vincita rivuole la giocata e quindi si crea questo circolo vizioso allora quando si prende la giocata si porta avanti con costanza le armi per giocare all'otto sono costanza fiducia e pazienza così si vince e chi mi segue e ho utenti che mi seguono da anni che veramente sanno giocare che veramente veramente sanno giocare bene e sanno investire hanno portato a casa questo mese di ottobre una marea di vincite è chiaro che per giocare all'otto bisogna anche avere la possibilità economica di investire che c'è molta gente che arriva magari non ha le possibilità gioca tre quattro volte nella speranza di realizzare chissà che cose poi non può più giocare queste persone secondo me non devono neanche avvicinarsi al gioco dell'otto il gioco dell'otto è fatto per persone che hanno un extra da investire quindi su questa cosa vuole essere chiaro quindi attenzione al mio poker perché abbiamo vinto con il super tris bellissima vincita di martedì 24 ottobre con l'1 23 a cagliari abbiamo vinto con gemello vincente vi riporta inizio del mese con 77 1 sono già due metodi che hanno vinto quindi vedrete che andremo a vincere anche con gli altri quindi chi vuole acquisire le previsioni a vincita venuta parliamo di due ambi su tre ruote si paga solo a vincita di ambo secco 3 4 8 7 5 4 7 7 1 5 mi raccomando cari amici perché sono previsioni che hanno dato nei mesi una valanga di ambi a colpo perché la previsione l'ado sempre per l'estrazione successiva vediamo ancora cosa possiamo dire distanza due a genoa 22 24 54 64 distanza 10 venezia e mi sembra che questi siano i segnali molta molta figura 9 questo è lampante questo quale strazionale quindi vedrete che il 90 arriverà alla grande seguite le mie spie perché andremo a vincere alla grande per adesso saluto a tutti mister sbancolotto